Si è tenuto presso Palazzo Sant'Agostino il Consiglio Provinciale che fra i punti all'ordine del giorno ha previsto l'approvazione del bilancio consolidato 2020 e di altri importanti strumenti di lavoro per l'ente. Oltre alla fondamentale approvazione del bilancio consolidato ha dichiarato il Presidente della provincia, oggi abbiamo approvato anche lo schema di protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della viabilità di accesso all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Il protocollo è previsto fra provincia di Salerno, regione Campania, comune di Ponte Cagnano-Faiano, comune di Bellizzi e consorzio aeroporto Salerno-Ponte Cagnano e GESAC-SPA, società di gestione e servizi aeroporti campani. La questione della mobilità per l'aeroporto per noi è molto importante perché vogliamo rendere accessibile e ben collegato lo scalo continuo astrianese, appena diventerà operativo alla fine dei lavori di allungamento della pista. Inoltre abbiamo approvato in consiglio la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL per delega alla comunità montana dell'espletamento della procedura di affidamento dei lavori di completamento della costruzione della strada di collegamento bretella di Massicelle-Montano-Antilia-Bivio di Laurito. Lotto numero 1, stralcio 2, fase 2, la bretella di Massicelle è un'altra opera che permette di sbloccare una situazione che durava da tempo e che questo consiglio provinciale con l'affidamento dei lavori alla comunità montana riesce a portare a buon fine. La provincia, ha concluso il Presidente, ancora una volta dimostra di essere presente sulle questioni rilevanti per il nostro territorio, soprattutto in un momento delicato come questo in cui è urgente creare e sostenere sviluppo economico e occupazione.